In stazione, James ha cambiato Era arrivato prima, però se in precedenza Ma comunque la posizione non c'è la parte di là Occe l'ha anche in questo caso per un pezzo Noi, si riesce, si non è molto bene, non ha fatto l'opente Vedete che c'è un'ottista in più, quinto lato In questo caso, l'ultima è una posizione che guarda Conto dei filari, quindi è poi libero Quindi non c'è nessuno, l'acqua E' un scatto di infatti lo sponda Frate l'idea, ovviamente la palla Ma non c'è la passola, non c'è bene Guarda il piede, lo staccolato